Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati anche oggi in questo nuovo video. Io sono Cristian e mi raccomando, prima di tutto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale perché il video di oggi sarà piuttosto interessante e spero, finalmente, riesca a aiutare tutti quanti voi nel capire una cosa molto 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 importante. Ma prima la sigla. Ora, quello di cui voglio parlare oggi è una cosa che mi ha dato parecchio fastidio, soprattutto nell'ultimo periodo, perché ne stanno spuntando come funghi. E parliamo degli account fake, tutti quei profili che si fingono me o un altro content creator, un'altra persona, qualsiasi, su YouTube, su Instagram, su qualsiasi altro social network, che si fingono appunto un'altra persona per cercare di truffarvi, perché non fanno nient'altro che cercare di truffarvi. E adesso vi farò vedere in maniera estremamente facile, estremamente semplice, come cavolo si fa a capire che è un profilo fake, perché poi è molto molto semplice. Basta semplicemente aguzzare un attimino l'ingegno, controllare due cose banalissime e si capisce che è un profilo fake, che non sono io che mi sono fatto un nuovo profilo. Non si sa quale motivo, tra l'altro, facendolo identico al primo. Non si sa perché dovrei venire a scrivervi in chat ciao, quando magari neanche ci siamo mai visti, ok? Partiamo quindi con il capire come andare a capire qual è un profilo fake. Allora, intanto mi sono anche armato un minimo di ingegno anch'io, perché ho deciso, con l'ultimo profilo, invece che bloccarlo, segnalarlo e basta, come ho fatto con gli altri, di fingermi semplicemente interessato. Quindi capire che cosa volessero proporre, come lo volessero proporre e quale fosse la frode alla fine di tutto il discorso. Oh my God! Wow! Quindi, andiamo a vedere un attimino che cosa è successo. Allora, innanzitutto, come possiamo vedere, la prima cosa che notiamo, a differenza del mio profilo personale, è che il profilo di questi infami è privato. Cosa che a me non piace, perché è privato ma neanche fossi della ciglia. Cioè, a parte va bene. Se siete delle ragazze, il profilo privato ancora ancora può andare bene, visto marasma di gente interessante e meravigliosa che si aggira per i social network. Ma il profilo privato l'ho sempre ritenuto un po' una cosa... Cioè, sei su un social, si usa per socializzare, profilo privato, lavori all'FBI, penso. Quindi, ok. Ergo, non avrò mai il profilo privato. Penso che non utilizzerò mai il profilo privato, non me ne frega assolutamente niente. Quindi, primo campanello d'allarme è il fatto che mantengano il profilo privato, così che voi possiate andare a seguirli subito dopo e loro possano tenere tracce, effettivamente. Se intanto siete un tizio dall'altra parte del mondo, di cui ovviamente non se ne fanno niente perché sono follower comprati, oppure se siete qualcuno che sta rischiando di cadere nella loro trappola. Passando lo step del profilo privato, si passa a guardare i post. Allora, intanto ho visto dei fake che hanno più follower di me. Questa cosa già mi fa incazzare. Non è possibile. Io mi faccio un culo così, con i contenuti, e non c'è nessuno che mi caga. Questi comprano 20.000 follower indiani. Voglio bene tutti gli indiani, ma porca caccia miseria. Siete milioni di miliardi, quindi ci mancherebbe ancora che non comprano da voi. E mi superano. Così, così. Ok? Non bene. No bene, ragazzi. No bene. Tanto mi raccomando, iscrivetevi al canale, che almeno anche YouTube lo spingiamo. Punto numero due. Basta guardare i post. La maggior parte delle volte, fate soltanto anche una carrellata dei primi 5-6 post. Vedrete che li hanno pubblicati negli ultimi 4 giorni, negli ultimi 3 giorni, nelle ultime 24 ore. Abbastanza ridico. Cioè, non ha senso pubblicare tutti quei contenuti nell'ultimo periodo. Soprattutto se mi seguite un minimo, quel post l'avrete già visto. Per carità, c'è talmente tanta roba su Instagram che non mi aspetto che seguiate me e vi ricordiate esattamente cosa pubblico. Ci mancherebbe ancora. Però, un campanello d'allarme può essere ogni quanto pubblicano il post. Poi, per carità, non è che sono Fede Zola Ferragni che ogni post che pubblico ho 50.000 like, ma neanche due. Cioè, va bene, minimo d'amor proprio. Non ho proprio due persone che mi guardano il profilo e dicono che faccia scemo c'è questo. Like e glielo lascio per compassione. Magari no. Pubblico un post, una decina, una quindicina. Non so, che tristezza. Non mi amano. Quindi, penso che sia abbastanza semplice anche capire quanta interazione ci sia su quel profilo. Profilo che ha pubblicato tutti i post negli ultimi quattro giorni e ha neanche un like, neanche un commento, niente di niente. Zeno, nada, nisba. Dovrebbe farci un attimo riflettere. Ok? Altro punto interessante che ho notato è quello delle storie in evidenza. Perché le storie in evidenza, come si può notare, sono, a parte prese, hanno ripreso la copertina della mia storia in evidenza, l'hanno ripubblicata dentro la storia in evidenza per metterci qualcosa, anche perché non avrebbe senso andare a copiarmi anche le storie, perché quelli sono già più macchinosi, ma ci sono anche quei tipi di fake e ripubblicano, lo buttano dentro, quindi ci sono delle storie in evidenza dove non c'è assolutamente niente. Non c'è motivo neanche di crearla, non la badeggia. Dai, cazzo. Ma passiamo alla parte interessante. Allora, io sono un rompipalle allucinante sull'italiano. Figuriamoci se parlo come sti deficienti. Ok? Mamma mia. Comunque, possiamo vedere benissimo come effettivamente loro inizino con il classico ciao. Quindi, vediamo qua. Gli ho risposto per capire un attimino cosa volessero fare, come dicevo, ma soprattutto cercando di sembrare quasi un mio mega follower, qualcuno che mi conosce, qualcuno che non vedeva l'ora che io gli iscrivessi, cioè, qualcuno che non esiste praticamente. Meraviglioso. Quindi, ho cercato, come dicevo, di capire da che parte volessero andare. Come si può notare, la cosa che fanno subito, o almeno alcuni, alcuni hanno anche un minimo di umanità, cercano quasi di creare un minimo di collegamento interiore e tantrico, ci provano e subito puntano a quello che è il trading, perché è anche stato uno dei termini più cercati su internet negli ultimi anni, considerando quello che è successo a pandemia, eccetera, eccetera, molte persone hanno cercato, me compreso, di capire come potersi risistemare o comunque riavviare con delle attività che non richiedessero il dover uscire di casa. Quindi il trading è stata una delle attività che ha riscosso maggiore successo. Di conseguenza questi fake puntano proprio in quegli settori e puntano proprio a portarvi all'interno di questi settori. Peccato che lo facciano con la merda, come vedremo tra pochissimo. Infatti, qui, come mi dice, io ho detto vabbè, tutto bene, tutto bene, lei mi ha detto ah guarda, sto selezionando per questa attività di trading appunto persone a caso. Così, io vi scrivo perché voi siete persone a caso. C'è neanche un minimo di accortezza nel dire wow ti ho selezionato perché sei un fenomeno. No, sai così, mi sei spuntato e ho pensato che fossi l'idiota giusto per questa attività. Che ne dici eh? Ti ho convinto? Lo so, ti ho convinto. Quindi, puntano direttamente al farvi entrare subito nel loro circuito meccanismo truffaldino all'interno di questa piattaforma di trading. Andiamo a vedere come mi vuole portare all'interno come dicevo di questo mondo fantastico, mirabiliante, mille, 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 e io subito lo perculo dicendogli che ho ben 30.000 euro lì. Non sapevo cosa farne, già non ne ho proprio, mancherebbe ancora che ne ho 30 da non saperne cosa fare, li mettiamo lì. Cosa facciamo? Li mettiamo lì. Mamma mia, per questo qua è stato perfetto e infatti subito partiamo, boh se sei pronto iniziamo, non vedo l'ora. Al che ho provato a fargli una domanda un po' più specifica se avesse un referral link o comunque un modo dovessi pagarlo per capire un attimino da cosa guadagna sta gente e lui mi ha spiegato molto semplicemente molto molto bravo che lui guadagnerà soltanto dal mio guadagno quindi lui si sacrificherà per la patria riuscirà a mettere il suo cuore al servizio di noi umili umani per farci guadagnare e guadagnerà lui con noi scusate detto questo siamo arrivati al punto in cui effettivamente lui mi spiega come fare e io gli chiedo qual è la piattaforma perché la cosa più interessante è capire qual è la piattaforma dove vanno a operare adesso qua ve lo scurrerò per una questione di privacy ma perché poi tra l'altro quel sito non esiste praticamente più e poi sono praticamente andato a vedere che cosa fosse questa piattaforma non era nient'altro che una di quelle piattaforme dove tu arrivi e se provi a depositare immagina un po' dove vanno i tuoi soldini proprio nel culo della balena comunque torniamo qua non ci sono più i tuoi soldini esattamente se tu decidi di andare a versare i tuoi fantastici 30 mila dollari fantamilioni all'interno di questa piattaforma non li trovi più la cosa ti stupisce? allora probabilmente hanno fatto bene a truffarti ma non è questo il punto non è questo il punto il punto è che il meccanismo si ripete ancora ancora e ancora e mi è anche capitato di trovare persone che scrivessero a questo account qui a questo account qui che sono gli ultimi che sono usciti in questi giorni e tra l'altro ah punto importante basta guardare il nome cioè perché mai dovrei mettermi a mettere dei trattini in mezzo al mio nome cioè va bene tutto ma non ci sono 27 mila cristiannasso al mondo riesco ancora a scrivere il mio nome intero su instagram va bene tutto però non c'ho le official pump page comunque detto questo la cosa interessante è che c'è stato anche chi mi ha scritto Kree ma l'altro tuo profilo da cui mi hai scritto non mi hai più risposto dovevo fare il versamento ti tirerei sotto con un tir se solo sapessi guidare un tir perché è allucinante che ancora si cada in una roba del genere e soprattutto nel momento in cui vi scatta un campanello d'allarme per il quale non sapete se quello sono effettivamente io scrivetemi c'è il mio profilo principale non è privato quindi è facilissimo scrivermi scrivetemi piuttosto Kree ma sei tu se proprio non avete nemmeno la voglia di guardare le mie storie dove ho già spiegato 40.000 volte che no quello non sono io poi per carità va bene tutto come dicevo prima c'è tantissima roba sui social quindi non mi aspetto nemmeno che tutti quelli che guardano le mie storie le guardino o le ascoltino per davvero ma lì sta comunque a me cercare di mettervi sempre più in guardia motivo per il quale sto facendo questo video detto questo mi raccomando state sempre davvero tanto tanto attenti perché io l'ho messa sul ridere perché queste cose effettivamente dalla mia parte fanno un po' ridere però mi è già capitato di sentire anche persone che seguono dei miei colleghi tra virgolette o persone comunque molto più famose di me sicuramente ma non è che ci voglia tanto c'è un gatto che è molto più famoso di me che venivano truffate proprio da questi profili fake perché si fidava perché queste persone si fidavano appunto di questi profili fake convinte fossero i profili reali i profili principali di queste persone perché spesso volentieri ci facciamo fregare da quel senso di oh mio dio lo seguo per me lui è importante famoso very important pirla tutto quello volete mi ha scritto wow e allora lì non connettiamo più e di conseguenza ci facciamo truffare come delle ragazzine come dicevo state sempre davvero davvero tanto tanto attenti piuttosto spendete venti secondi in più scrivete alla persona che considerate quella reale controllate che effettivamente sia una persona reale controllati i punti di cui vi ho parlato prima quindi il post il timing del post la sua interazione le storie in evidenza le storie in sé effettivamente se magari cinque minuti prima non ha appena detto ragazzi mi raccomando c'è un fake che gira non date gli soldi citazioni puramente casuali quindi state davvero attenti non smetterò mai di ripetervelo e i punti per capire se è un fake penso di averveli dati praticamente tutti detto questo spero di esservi stato utile e noi ci rivediamo al prossimo video ciao e se fossi tu il fake e l'altro fosse quello reale cazzo non ci avevo pensato